Questo credo che sia il presupposto per mettere in campo anche una revisione di tutta l'organizzazione, ivi compreso il patto di stabilità. Momentaneamente congelato, ma credo che debba essere aperto un confronto propositivo per capire in che termini, lì dove ci dovessero essere dei momenti di recessione o lì dove ci sono delle esigenze particolari di alcuni Stati, bisogna andare incontro loro per far sì che chi ha maggior debiti possa rientrare con un maggior numero di anni e soprattutto con condizioni più larghe affinché il proprio debito si possa trasformare in debito buono e quindi in spesa produttiva.